Nel video precedente abbiamo introdotto brevemente il nostro tema e abbiamo parlato dell'adesione di verga alle idee del darwinismo, dell'evoluzionismo e che cosa significano esse nel contesto verghiano appunto con particolare riferimento alla prefazione al ciclo dei vinti. Ora in questo secondo video tratteremo l'interesse di verga che è fondamentale per la cosiddetta questione meridionale e anche la sua adesione al naturalismo e comunque ai principi stilistici, ai principi espressivi che sono propri del naturalismo interpretati però da verga in modo estremamente personale e peculiare. Anche in questo caso questi due aspetti possono essere visti alla luce di due dichiarazioni per così dire programmatiche, due manifesti che sono contenuti nella produzione di verga anche se lo ribadisco non si tratta di manifesti nel senso proprio del termine, sono dichiarazioni di poetica che il verga ha lasciato nel contesto della sua opera. Parliamo della questione meridionale a questo punto. La questione meridionale è una questione assai importante nel contesto post-risorgimentale nel quale il verga si trova a scrivere nel contesto dei primi decenni dell'Italia unita. La questione meridionale è subito una questione di rimente, una questione fondamentale, tant'è vero che è fatto oggetto di diverse indagini parlamentari ad opera di personaggi importanti come Pasquale Villari per esempio, Stefano Iascini, Giustino Fortunati, Sidney Sonnino. Queste indagini parlamentari che cosa mettevano in evidenza? Lo stato di grave arretratezza del nostro meridione in cui masse di diseredati erano assolutamente sfruttati da possidenti, nobili che obbedivano ancora ad una logica arcaica, una logica feudale, al punto che si può parlare di un dissidio, di una frattura fra il cosiddetto paese reale, un paese appunto caratterizzato da queste disuguaglianze, da questa logica di sfruttamento spesso brutale, e il paese legale che non riusciva a far valere le sue ragioni. e tutto ciò condusse fra l'altro a parlare di risorgimento mancato. Verga è particolarmente interessato a questo tema, sappiamo che in ogni caso le inchieste furono per lui una fonte, per esempio l'inchiesta sulla condizione dei ragazzini, dei minori sfruttati nelle solfatare siciliane, rappresenta il contesto da cui parte una delle sue più famose novelle, cioè Rosso Marpelo. Fra l'altro poi successivamente affronteremo anche il tema estremamente delicato della posizione politica di Verga, ne abbiamo già in qualche modo parlato nel confronto con Zola, però è un tema che merita un ulteriore approfondimento. Ora la questione meridionale è una questione che si coniuga con una formuletta che viene spesso usata a livello scolastico, la cosiddetta morale dell'ostrica. Effettivamente la morale dell'ostrica è una formula che usa lo stesso Verga in una novella di vita nei campi che è Fantasticheria, una novella fra l'altro non scritta secondo i canoni veristi, è una novella che racconta una gita, una passeggiata del narratore insieme ad una giovane fanciulla dell'alta società ad Ascitrezza che poi sarà il teatro dei Malavoglia. Diciamo che in Fantasticheria è contenuto il primo nucleo di ispirazione dei Malavoglia, quindi vengono presentati grossomodo i personaggi che poi saranno sviluppati con ben altro spessore e con ben altro approfondimento all'interno del romanzo e a un certo punto si parla appunto della cosiddetta morale dell'ostrica, cioè che cosa significa? Significa che queste persone povere così lontane dall'interlocutrice del narratore che è una giovane fanciulla affascinata sicuramente da quell'ambiente apparentemente idillico, apparentemente bucolico ma che della durezza di quell'ambiente ignora sostanzialmente tutto, arriva a dire fra l'altro le stranità fra le classi, l'impossibilità, l'incapacità di potersi confrontare, di poter colloquiare fra classi diverse, questa sorta di struttura sociale che il Verga interpretava come immobile e assolutamente non modificabile, almeno nemmeno con la buona volontà, diciamo che si propone questa povera gente che vive in questo modo così misero però non abbandonerebbe mai il suo luogo, la sua casa, le sue tradizioni, no? Quello che ad una giovane fanciulla della burchesi o dell'aristocrazia appare insopportabile per loro è il loro mondo, un mondo a cui non si sentono di rinunciare e quindi il Verga come descrive questo atteggiamento in fantasticheria, no? Lo descrive esattamente con queste parole. Insomma, l'ideale dell'ostrica direte voi, proprio l'idea dell'ostrica e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non essere nati ostriche anche noi. Peraltro il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna gli ha lasciati cadere, mentre seminava principi di qua e duchesi di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia che si riverbera sul mestiere, sulla casa e sui sassi che la circondano, mi sembrano forse per quarto d'ora cose serissime e rispettabilissime anch'esse. Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo si addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione. Sembrami che potrei vedervi passare al gran trotto dei vostri cavalli col tintinnio allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente. Ma Verga vuole sottolineare però anche un altro aspetto. Se qualcuno abbandona lo scoglio, se qualcuno cerca di gettarsi nel mondo, in generale viene travolto. Quindi si ritorna al tema di cui abbiamo parlato nel precedente video. Se qualcuno si sforza di cambiare in qualche modo la sua situazione viene travolto dal mondo esterno che si manifesta come una sorta di pesce vorace. Infatti la novella si conclude così, con queste parole. Un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò, che allora quando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dei suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo, da pesce vorace che gli è, se lo ingoiò, e di suoi più prossimi con lui. E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca di interesse. Per le ostriche l'argomento più interessante deve essere quello che tratta delle insidie del gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio. Quindi in questo ideale, in questa morale dell'ostrica, e nucleata appunto in questa novella, abbiamo proprio l'impressione di vedere questo verga che non desidera un miglioramento, che sostanzialmente è una sorta di paladino dell'immobilismo sociale, che è nato in una certa condizione, bene che non se ne stacchi, perché se no verrà travolto dalla sua ambizione. Ora in realtà l'opera del verga va considerata nel suo complesso e questo aspetto che pure è presente va comunque in qualche misura problematizzato, ma questo lo vedremo in seguito. Diciamo che comunque questo principio, questa concezione, rappresenta il nucleo di quello che poi saranno i malavogli ed è abbastanza interessante sottolinearlo e vederlo in questa fase specifica. È comunque un'immagine crudele quella che si dà. il mondo pesce vorace o il coltello del palombaro che travolge e uccide la povera ostrica che ha deciso di staccarsi dal suo scoglio e di affrontare l'insidio dell'esterno senza essere sufficientemente in grado di farlo, senza essere adatta, ecco, diciamo così, senza avere le forze per poter affrontare questa sfida, no? E quindi in un'altra formulazione ritorna sostanzialmente il tema della fiumana, del progresso che travolge tutti, sia vinti che vincitori, perché comunque i vincitori sono destinati ad essere vinti anche loro. Quindi è un'altra formulazione di questo particolare, particolare tema e che si applica in una maniera specifica appunto alla questione meridionale, come abbiamo detto all'inizio, perché il problema del meridione era appunto la presenza di questo mondo arcaico, contadino eccetera, che però in qualche misura rischiava di essere spazzato via dal progresso, ma che comunque era anche, come dire, tartassato, tormentato da logiche secolari di sfruttamento che diventavano ancora più spietate a contatto con la modernità. Quindi è questo il tema, è questo il collegamento, che vedremo però meglio approfondendo le opere nello specifico. Trattiamo brevemente in questo video anche il tema delle scelte espressive del verga. La scelta fondamentale è il cosiddetto principio di impersonalità, cioè sparisce dalla narrazione del verga l'immagine del narratore onnisciente alla manzoni per intenderci, che costruisce un suo mondo, un suo universo narrativo e lo gestisce dall'alto conoscendone tutti gli aspetti ed entrando a commentarlo, a gestirlo, interrompendo la narrazione eccetera. No, in realtà la narrazione per verga deve apparire in qualche modo come se si facesse da sé e questo aspetto lui lo esplicita in una pagina che la dedica a Salvatore Farina della novella l'amante di Gramigna, in cui verga scrive questo. Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie che la mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, questo è un aspetto importante, la mano deve rimanere invisibile, allora avrà l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed essere sorta spontanea come un fatto naturale, senza osservare alcun punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato di origine. Ecco, la dedica a Salvatore Farina è il terzo manifesto, la terza dichiarazione di poetica, diciamo così, che il verga ci ha regalato, ma per affrontare meglio questo punto rimando al prossimo video, quindi eccomi qui, al prossimo video dove affronteremo meglio temi interessanti e importanti come l'eclissi dell'autore e vedremo come il verga anche in questo, pur nella somiglianza, si differenzia però in maniera significativa dalle scelte di Emil Zola. Quindi al prossimo video.